Nella mia organizzazione quella parola non esiste. Mi dica quanto. Due milioni. È una bella somma. Oh, è una somma piuttosto piccola per affianare la bilancia del potere mondiale. Non è d'accordo, signor King? Riferirò la sua richiesta ai miei soci. Se lo accettano, quando possiamo prevedere la consegna? Lo saprete tempestivamente. So che lei ama le gite in yacht, signor King. Sì, il mio ora si trova a Hong Kong, come forse saprà. Bene, allora forse accetterà una breve gita con me domani. Oh, splendido. Mi piace molto unire al lavoro anche un tocco di piacere. Buona giornata. Buona giornata. Che cosa significava quel discorso del potere mondiale? Con due milioni di dollari a chi interessa? Ho incontrato un mucchio di tipi come lui in Corea. È meglio che dimentichi le medaglie che hai vinto, eroe. La guerra è finita per te. La guerra è finita per te. Grazie a tutti. Vede, dottor Fraser, la Cyclops è una organizzazione veramente notevole. Grazie, generale. Non ci avrei mai creduto se non l'avessi vista. Signore, sono sicuro che siamo tutti d'accordo. Siamo appena stati testimoni di un insuccesso dei moderni sistemi armati. Dottore, questo cambierà il concetto attuale della difesa e dell'offesa. E la bilancia del potere mondiale. Sì, penso che abbiate ragione. Dottor Fraser, quindi il Cyclops è in grado di proiettare i suoi raggi ad una distanza superiore a 20 miglia? È proprio così, ammiraglio. Beh, non sarebbe possibile installare un modello più grande con un raggio più vasto in un satellite d'orbita, che potrebbe colpire un qualsiasi bersaglio sulla superficie terrestre. Grazie. Grazie.